Musica Anche la regione Abruzzo, come tante altre regioni italiane, entro la fine dell'anno è chiamata a legiferare in merito alle aree idonee su cui installare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. A tal proposito dunque il consigliere regionale delegato Nicola Campitelli ha partecipato alla riunione del gruppo di lavoro chiamato a predisporre un disegno di legge da presentare in giunta regionale e successivamente all'attenzione del consiglio regionale nel quale definire le aree. E' un progetto molto ambizioso perché comunque da una parte abbiamo i target che l'Europa impone alla nazione Italia e di conseguenza la regione Abruzzo. Noi abbiamo quindi l'obiettivo che da qui al 2030 dobbiamo quindi aumentare, avere un incremento di potenziale di fondi energetiche rinnovabili di oltre 2 gigawatt. Dall'altra parte c'è da tutelare quelle che sono le nostre risorse naturali, le nostre risorse ambientali. E' un compito non semplice, siamo chiamati quindi a trovare quel giusto equilibrio tra quella che è la tutela della nostra terra e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Abbiamo creato un gruppo di lavoro, stiamo lavorando in modo coordinato, c'è una grande professionalità all'interno di questo gruppo di lavoro, i vari dipartimenti della nostra regione e insieme ad ANCI proprio per ascoltare quelle che sono poi anche le esigenze dei comuni e dei vari territori. Quindi è un lavoro importante ma noi come regione Abruzzo stiamo facendo la nostra parte.